Fratelli d'Italia, d'Italia, sedesta A Medio della Valle, 26 anni, Alba Il mio sogno sportivo è ed è sempre stato diventare un giocatore di Serie A Quando ero piccolo è sempre stato il mio obiettivo, anche perché io sono un giocatore che si è sviluppato molto tardi E quindi ho sempre dovuto rincorrerlo e poi finalmente ce l'ho fatta Avere mio padre che comunque ha giocato tanti anni è stato un riferimento Ma più che altro è stato molto motivante perché uno cerca sempre di diventare migliore di qualcuno Io partita dopo partita, giorno dopo giorno, ho sempre cercato di essere più forte di mio padre per una competizione familiare Più forte di lui secondo me mi manca ancora qualcosina, siamo lì lì Mi rivedo un po' sia mio padre che mia madre Non c'è una persona delle due in cui mi rivedo di più personalmente ma mi rivedo molto in entrambi E penso che questa è una cosa di cui vado molto orgoglioso perché vedo mio padre e mia madre come due figure di assoluto riferimento Il mio pregio come giocatore penso che sia il mio istinto e il mio pregio come uomo penso che sia l'onestà Come uomo sicuramente sono molto testardo e come giocatore anche sono molto testardo L'esperienza in America è stata sicuramente un qualcosa che mi ha fatto crescere molto velocemente Perché ho dovuto confrontarmi con tantissime culture diverse soprattutto prima all'high school Quando sono andato a vivere per la prima volta con cinque ragazzi che non parlavano la mia lingua Io sapevo pochissimo l'inglese quindi è stata appunto una scuola di vita E poi al college perché incontro gente da tutto il mondo Che sia un paese asiatico, l'America, l'argentino, qualsiasi cosa E imparare a prendere qualcosa da qualsiasi cultura è stato qualcosa di importante per me È una grande responsabilità perché tutti vogliono vestire la maglia azzurra Tutti provano a fare qualcosa per essere in azzurro ed esserci è qualcosa sicuramente di speciale E poter rappresentare l'Italia comunque è un motivo di grande orgoglio Per una medaglia mondiale sarei disposto a fare qualsiasi cosa Mio padre era la persona più importante per la mia carriera Nella vita mia madre, sicuramente mia madre era stata la persona più importante Ho capito che potevo diventare un giocatore di basket quando me l'ha detto mio padre Perché prima pochissime avevano creduto in me Addirittura mi avevano scartato tantissime volte i provini alle giovanili Quindi mi sono fatto forza tramite lui Se non avessi giocato a basket sicuramente avrei fatto qualcosa davvero di strano, di particolare Io ho studiato due anni economia e commercio però non penso che avrei fatto nulla di simile Sicuramente sono un partito dello sport ma se lo sport non ci fosse stato nella mia vita Io sono un amante degli animali e del mare quindi qualcosa legato a quello Io amo Little Basket, amatela anche voi Io sono un amante